Qual è la cosa più ricorrente che i tuoi lettori, quando ti incontrano, ti dicono, ti sottopongono, ti propongono? Ci sono due domande che tornano sempre, questo a distanza di tempo e anche di luogo. Una è fino a che punto sono autobiografiche le cose che uno scrive e questo succede spesso, specialmente quando uno scrive come me, libri in prima persona, per cui viene quasi automatico pensare che molte delle cose che racconti ti appartengano. Questa è una cosa in realtà abbastanza fuorviante, devo dire, perché poi la letteratura, la scrittura in sé è ambività e ci sono libri apparentemente di fantasia, il caso più clamoroso forse è L'isola del tesoro di Stevenson, che invece è un libro molto autobiografico, mentre tutti quanti pensano che non lo sia fatto. E poi ci sono domande che ruotano intorno invece proprio al mestiere dello scrittore, perché molte volte comunque chi ti legge vorrebbe sapere poi com'è scrivere, che cosa significa, che cosa c'è dietro, quali sono i meccanismi di quello che si intuisce ormai essere appunto un'industria, perché questo è l'industria editoriale, come dire, un tempo lo scrittore evidentemente faceva il suo mestiere semplicemente scrivendo e consegnando il manoscritto all'editore, poco più, oggi come oggi no.